Un barcone carico di migranti è naufragato stamattina in acque territoriali italiane. I militari della Guardia Costiera hanno soccorso sette siriani che si trovavano su una barca a capovolta. I superstiti raccontano però di essere partiti in 28 dalla Libia lo scorso 1 settembre e che dopo un giorno di navigazione si è verificato l'incidente. I superstiti hanno perso i cellulari, disperse stando ai racconti dei sette siriani, almeno 21 persone, fra cui tre bambini. I profughi sono stati sbarcati a Molo Favarolo di Lampedusa e già trasferiti all'hotspot di Contrada in Briacola. La barca, con a bordo 28 persone, si è capovolta dopo circa un giorno di navigazione e quindi ancora in acque territoriali libiche. I sette superstiti sono stati per tre giorni alla deriva sulle natante capovolto fino a quando non sono stati intercettati e salvati dai militari della motovedetta CP324 della Guardia Costiera in Acque Territoriali Italiane. A ricostruire il viaggio, che si è trasformato in tragedia, sono stati sopravvissuti tutti i siriani. I sette, che vengono ascoltati dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento, presenti all'hotspot di Lampedusa, hanno riferito di essere partiti da Sabrat in Libia alle 16 di domenica. A loro dire, sul natante, vi sarebbero stati soltanto sudanesi e siriani, tra cui tre bambini. C'è stato un calo significativo di arrivi di migranti ed è evidente che le politiche del governo stanno funzionando, ma è necessario che l'Europa si occupi di quel che si parla da tanto tempo, ossia i canali umanitari per far viaggiare e arrivare in sicurezza queste persone, altrimenti si continueranno ad avere morti nel Mediterraneo. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, dopo il naufragio verificatosi in acque territoriali libiche.